Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguri, in questo video parliamo di un grave lutto per il cinema italiano, ci lascia un grande personaggio, un personaggio familiare, un caratterista, un attore con all'attivo ben 70 film, stiamo parlando di Enzo Garinei, fratello del grande Pietro. Enzo Garinei ha preso parte a film memorabili come Totò Lemocò nel 1949, ricordiamo anche la sua partecipazione a Banana Joe con il mitico Bud Spencer, tanti sono stati i film di Enzo Garinei ma anche tanto teatro e anche tanto doppiaggio, ricordiamo tra l'altro per essere stato il doppiatore del telefilm, E. Jefferson, il secondo canale di Marco Liguri, con immenso dispiacere, ricorda un personaggio che rimarrà per sempre nei nostri cuori, ricorda il grande Enzo Garinei scomparso a 96 anni. Amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti.